Scusate il letto malomodo ma era giusto un'intra per dirvi, voglio 10 pollicioni in su per il continuo di Subnautica. Questo è un video un pochettino vecchio che risale all'incirca 4-5 mesi fa, sì ce l'avevo da parte e vi sarebbe piaciuto molto riportarlo sul canale. Mi raccomando 10 pollicioni in su e continuo la serie di Subnautica. Vi lascio al video e buona visione. Sì? Pronto mi dica? Sì, sono io il capitano della navetta. Cosa? State venendo a salvarmi? What? Salve l'equipe e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Sanjay e questa è la mia nave spaziale. Cioè, questa qua, ecco, è pieno qua, stiamo facendo un sacco di cose. Abbiamo anche ricevuto un messaggio, cosa che dovevamo scoprire dall'altra volta. Abbiamo fatto tantissime cose, non ci resta che scoprire l'arcano, il mistero, dato che siamo stati infettati. Questo batterio si trova dappertutto. Sì. Ma che caspio! Cosa? Nuovi soggetti biologici designati? Condivisione dei soggetti con altre posizioni? Cioè? Ma che cas... Oh mio Dio, è inquietante. È inquietante davvero. Allora, 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 allora. Vediamo un attimino. Dove appoggiate il ciclope col Simot è là. Ok. Ah, ci arriviamo proprio in faccia. Bellissimo. Allora, per prima cosa, innanzitutto prepar... Sì, grazie. Allora, per prima cosa, prepariamoci perché sarà una missione tutta esplorativa. Allora, innanzitutto, ho questo drone videocamera che non mi servirà, quindi possiamo anche lasciarlo. Ma certamente anche qui dentro. Esatto. Butta tutto qua. Come? Non c'è acqua? No, a me mi serve l'acqua. Dai! Sale 65% acqua, vabbè. C'erano alcune cose che dovevo farmi perché senza quelle non posso progredire nella missione. Tipo, per esempio, una muta rinforzata, le pinne ultrascorrevoli, che penso possiamo farlo, modulo di profondità MK2, lingotto di plastacciaio, magnetite, modulo di profondità del Simot MK1, più vetro smaltato. Solo il litio per fare la profondità del Simot. Fa' vedere un attimo. Ce l'abbiamo? Devo averci qua da qualche parte, no? Ehm, devo prendere il litio. Bene! Mi fa piacere questa cosa. Ok, ho la tuta antiradiazioni. Ok? E nel frattempo che aspettiamo un'altra chiamata, vorrei approfittarne per... Grazie. Grazie mille, grazie mille. E te come ti devo chiamare? Fabio? Gesualdo? Come devo chiamarti? Comunque. Va attendo. Ok, possiamo lasciare. Oh, guardate che bella. È gigantesco, comunque, sia questo coso. Questo coso è gigantesco. Una rapida cosa. Ecco, siamo quasi vicino. Quasi vicino. Lasciamolo qua. Lasciamolo qua. Tranquilli, belli, beati. Andiamo a prendere il Simot. Usciamo con il Simot. Decidiamo di fare una bella passeggiata con il Simot. Madonna che not... Che buio qua dè. Qua sotto è proprio buio. Vai. Viece. Viece! Viece! Eh, ti ha dato la scassetta, eh? Lurido. Guarda come scappa. Guardalo come scappa. Guardatelo, eh? Questo è quello che voi acclamate, eh? Sono bramoso di avventure oggi. Devo trovare più cose possibili. Con calma. Aia, state calmi. Abito proposto della Decasi, 500 metri. Ma all'habitat proposto della Decasi non posso andarci. Quello? Altro titanio. Non mi serve il titanio. Voglio qualcosa di nuovo. Sono bramoso di qualcosa di nuovo. Decidiamo di vedere che cosa c'è nella capsula 19. Voglio esplorarla ancora meglio. Della Decasi. Paul Torgal. Missione secondaria di ricerca e salvataggio. Paul Torgal. Disperso nello spazio e vicino al pianeta. Ah! Guarda come mi spedisce sopra, figata. Figata assurda. Mamma mia! Come ti brucio! Voglio farmi un pochino il giro lì. Perché... Ehm... Voglio vedere innanzitutto se c'è qualcosa nei paraggi. Quello l'ho già visitato, quello, eh. Ricordiamoci o quale e quale non abbiamo visitato. Guardate quanto è. Quanto è profondo quel posto. Guardate quanto è profondo. Io non posso neanche avventurarmi lì giù, eh. Cioè, non ho i mezzi necessari per avvicinarmi lì giù. No! Non mi dire che ho trovato il buco. Caspiterino, ho trovato il buco. Cristallo di uranite. Lo prendo diamante. Mamma mia! C'è il tesoro. Io lo sapevo che qui c'era il tesoro. Io lo sapevo che qui c'era un tesoro molto grande. Il fatto è che questo per tu già aumenta. Guardate, qua si trovano tutti i ben di Dio possibili e immaginabili. Tutto quanto si trova qua. 329. Abbiamo già... Abbiamo trovato qualcosa. Abbiamo trovato qualcosa davvero. E lì... E qui si scende ancora. Pazzar. Oh. Sento degli strani, strani, strani rumori. Allora, darò un'occhiata perché mi interessa parecchio. Ma ovviamente devo ricordarmi di venire a prendere abbastanza ossigeno. Cerco di metterlo il più vicino possibile. Da non fare fatica. Ecco, ho anche 23% di batteria per questa cosa. Wow, sapevo che c'era un qualcosa qui. È pieno zeppo di materiali preziosi. Pieno, pieno, pieno zeppo. Posso? Ovviamente. Che cazzarola era? Ragazzi, sento qualcosa di brutto. Oh mio Dio, chi è? Che cazzarola è quello? Chi è quello? Tutti i materiali. Fammi... Non mi dica la tana di questa cosa. No, serio? T'ammazzo, eh? T'ammazzo. Non mi importa come t'ammazzo. T'ammazzo. Io intanto prendo tutti questi materiali che dopo vediamo a che cosa servono. Lo sento sempre più vicino. Questo è sicuro è la sua zona, è la sua nave. È la sua grotta. Stai calmo. Stai calmo che qua devo trovare anche l'uscita, eh? No. No. No, 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 ragazzi. Serio? Serio? Dov'è? Dov'è? Il Simot? Dov'è il Simot? È sparito il Simot, ragazzi. È sparito il Simot. Così, a caso. Cioè... Adesso... Aspettate, aspettate. State dicendo che il mio Simot, quello che ho costruito con tanto amore, è sparito. Cioè, io ero sicuro che l'avevo lasciato lì il Simot. Non c'è più il Simot. L'hanno fatto scoppiare. No, mi dispiace. Non salvo. Eh, intanto che ritorno su quel punto, io scopro pure le navicelle. Questa è la navicella 7. Oh. Che figo. Bellissimo. Eh, vai via, no? Vai via. Che cosa... Perché mi attacchi? Guarda, guarda. Mo se tu mi attacchi... Cioè, boh, perché dovete rompermi le scatole? Perché sono proprio nella tana pure io. Nella tana, in bocca, ci sono andate a finire. Guarda. Dai, è incredibile. Non riesco a trovare quel pertugio. L'ho trovato completamente a caso prima. Eccolo qua, eh. Dai. Dai che l'ho trovato. Dai che l'ho trovato. Il pertugio. Ho trovato lo stesso pertugio di prima. Non ci credo. Serio? Diamante. Buono. Vabbè. Eh, però stavolta me lo dà. Eh, eh, eh. E qua ci dovrebbe passare, giusto? No. Qua? No. No. Non ci passa più. Non è lo stesso pertugio ma non fa niente. Ho trovato lo stesso materiale. Canziona. Cristallo di uraninite. Lo sento. È qua in zona. È qua in zona. Lo sento. Però, meno male, non ci fa vedere. Dai. Vedi? È questo qua. Quando lo raccolgo mi fa... È tipo... Tipo uranio, sapete? Mi fa un rumore strano. Tipo... Come se ci fossero delle radiazioni, appunto. L'ho preso? Sì. L'ho preso. Posso mangiare in santa pace uno. E posso mangiare... No. Vai. 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 Oh. Mamma mia. Per pochissimo. Eccolo. Vedi? Dov'è? Sapevo che c'era. Sentivo il rumore. Che cos'è questa creatura? Allora, innanzitutto salvo. Poi, il secondo esperimento che voglio fare è questo. So che rischio. So che azzardo. Eccolo. Fa vedere un po'. C'è il teletrasporto. Che c'ha sto stronzo? Ah. Ah. Bene. Bene. Questo mi fa piacere. Posso attaccarlo. Beh. Questo mi fa davvero piacere. Adesso. Ci sono un sacco di pietruzze qua in zona. Perché ce ne sono davvero tante. Il fatto è che... Mi conviene prenderle. Perché? Perché? Perché soffro? Perché soffro calore? Serio? Fammelo riparare che sto coso mi... Cioè, viene distrutto sto coso o perso. Esci il buco. O la 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 la. Ma scerisci usciula. Oh. E il reaper è anche dietro di me. Guardate. Guardate che infame. Fame. Per te sono le lame. Infame. Quindi qua c'è un altro buco. Se c'è un reaper c'è un altro buco. Bravo. E sparisce. Bravo. Bravo. Così devi fare. Coglione. Devi sparire. Mi fa pure male. Cioè, incredibile. Dai. Fammi prendere tutte queste materie prime qua. Quest'altra qua. E laggiù c'è. Sì. C'è. C'è. La vedo. C'è. La vedo. Oh. No. Non me lo toccherai di nuovo. No. Dai. Serio? Oh. Vai via. Ti ho detto. Da notare non mi ha chiamato neanche nessuno. Non ricevo un messaggio da ben 35 minuti. Oh. Fammi vedere se... Si può scansionare. Si può. Si può. Il warper si chiama. Non il reaper. Si può scansionare. Fermo. Giriamo. Trottola. Trottola. Così. Dammi informazioni. Sì. Sì. Oh mio Dio. Quasi. Oh. Oh. Non so dove è andato. Non so dove andato. Dobbiamo allontanarci il più velocemente possibile da qua. Grazie. Carnivori. Sicuramente. Guarda. Ma sicuramente. Dato che non mi attacca. Con l'abilità di teletrasportare se stesse e altri. Non è stato identificato alcun incrocio genetico con le altre forme di vita locali. Non mostra alcun comportamento difensivo riconosciuto. Testa. Dei meccanismi situati nella testa forniscono al warper la capacità di teletrasportarsi. Che usa per inseguire i suoi bersagli. Con il mio bottino non mi resta che tornare a casa e vedere che cos'è questo uranine. Torniamo a casa. Poggiamo tutto. E vediamo un po' se qualcuno mi ha scritto o mi ha inviato qualche messaggio. Perché bisognerebbe mettercene un'altra. Bisognerebbe metterne un'altra. Un'altra di questa mi farebbe molto molto comodo sinceramente. Due acqua. Due possibilità di attingere all'acqua. Ok. Ok. Sono pieno di materiali. Eccolo. Ecco l'altro messaggio. Perfetto. Perfetto. Possiamo andare a sentire subito il messaggio. Non mi importa di nessun altro. Voglio sapere quando mi vengono a prendere. Perché questa cosa. Questo soggiorno qui. Mi sta dando davvero ai nervi. Ve lo dico. Fa vedere un po'. Che cosa mi dice. Vai. Vi ascolto. Sì. Sì. Arrivo. Due messi in grado di stabilire un contatto diretto con voi. Poi. Verremo a prendervi. La Sunbeam arriverà tra 40 minuti reali. Ma solo che crocio le dita. Certo che crocio. Dove siete? Dove? Dove? Seri? Qualcuno ci sta venendo a cercare tra circa 40 minuti. Beh. Allora non mi resta che concludere qui l'episodio. Invitarvi a lasciare un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto. Mi raccomando. Continuate a sostenere la serie. La serie di Subnautica. Perché è fantastica. Stiamo scoprendo sempre cose. Adesso non vedo l'ora. 40 minuti. Mi mancano. 40 minuti. E verrò salvato. Ce l'andiamo da questo posto ragazzi. Ce ne andiamo via da questo posto ragazzi.